Ciao, sono Davide Galanti, vi spiego cosa si trova nella area demo per ambiente virtual desktop e virtual app. È possibile provare un virtual desktop completo o un'applicazione virtualizzata. Il virtual desktop è come un pc virtuale, solo che questo pc è raggiungibile da un browser. Quindi avrete un link di un browser, vi arriverà una password, una username e un link, quindi un'url. Lancerete questo link, vi si apre il browser e vedete una pagina dove si mette una username e una password. Ok, messe le credenziali, vi arriva questa icona dove cliccandola vi si apre un desktop completo. Questo desktop è un classico desktop tipo pc, quindi c'è l'office, c'è un visualizzatore CAD, ci si può giocare, fare copia e incolla dei file, provare, eccetera. Occhio, non è che mettete su i vostri programmi, è blindato, è sempre acceso. Tra l'altro noi siamo gli unici in Italia, abbiamo un virtual desktop dimostrativo dal lontano 1998, cresciuta sempre la tecnologia, cambiate la tecnologia, ma abbiamo sempre avuto una demo in funzione. E quindi è una demo blindata, chiaramente, perché è esposta al pubblico, quindi si può giocare. Anzi, giocateci, nel senso che mettetela alla prova, stressatela, vedete se funziona bene, se è veloce, fateci sapere, perché nel caso compriate una soluzione eserativa al virtual desktop, avrete quella, non un'altra cosa. Quindi così la provate prima e siete contenti di sapere. Poi c'è il virtual app. Virtual app è l'erogazione di una singola applicazione. Qui, sempre vi arriva un link, vi aprite il browser e mettete username e password. Anche lì per sette giorni giocate con una app, ma una app singola. Serve a chi deve distribuire applicazioni singole. Chiedo venia solo per una cosa. L'applicazione doveva essere una cosa semplice, capibile da tutti. Non è che potevamo mettere un gestionale o un CAD, perché se uno non conosce quel gestionale o quel CAD, poi dice, boh, cos'è sta cosa? Quindi abbiamo fatto un'applicazione che ricorda quell'applicazione fatta tipo in Access, applicazione in Visual Basic, che ha i record, la testata, i flag, eccetera, eccetera, a prova di bimbi. Questo è quello che troverete con la demo virtual app e virtual desktop. Ciao! Ciao! Ciao!